E così, nell'era del progetto case, accade pure che ti ritrovi sul sito per annunci subito.it quello del subaffitto di una stanza al progetto case di Sassa. A scovare la questione è stato il periodico L'Editoriale, che a firma di Alessandra Cococcetta, mette in luce la questione. 250 euro, chiedere di Maria, questo sta scritto sull'annuncio. C'è da chiedersi a questo punto come voglia intervenire il Comune dell'Aquila e il settore con la sua dirigente di riferimento Enrica De Paulis, ma il fatto resta comunque gravissimo e probabilmente, come questo caso, ce ne sono altri rimasti per ora sommersi. Insomma, c'è chi subaffitta di questi tempi alloggi che dovrebbero invece essere usati solo per la mera emergenza. La domanda è, chi dovrebbe controllare tutto? E questo accade dopo che la Corte dei Conti ha da poco assolto la vecchia amministrazione sulla mala gestione dei conti del progetto case. E sul progetto case se ne sentono tante, chi userebbe gli appartamenti per la prostituzione, ora esce la storia dei subaffitti, certo che controlli mirati non guasterebbero, considerando che esistono persone che realmente invece hanno bisogno di questi alloggi. Dal sindaco Biondi ora ci si aspetta una presa di posizione dalla procura pure per accertare chi è questa signora che affitta una stanza a 250 euro a sassa in alloggi che servirebbero invece per l'emergenza.